oggi qua siamo al 21 di dicembre a più che dicembre sembra novembre oggi tra l'altro inizia anche l'inverno guardate questo è il livello del fiume serio all'altezza del ponte della selva la parre guardate qui le piogge ormai è da 24 ore che stanno battendo il limite delle nevicate si è abbassato attorno ai 1500 1600 metri le piogge sono destinate a diminuire nel pomeriggio però questa è la situazione acqua davvero alta non fa paura non è l'almante però è la valle che scende da clusone che entra nel fiume serio alto il livello però diciamo niente da allarmare insomma sembra novembre più che ormai natale